We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! Buona festa! Ciao a tutti! L'occorrente che ci servirà ve lo lascio scritto giù nell'info box, come sempre. Allora, ho disegnato questa stella e questo petalo. Non vi lascio il cartamodello da nessuna parte perché comunque è semplicissimo disegnare un petalo e una stella. Poi vado a riportare il contorno della stella e del petalo per 5 volte sulla gomma eva e faccio anche 3 petali verdi. Poi prendo la piastra e vado a riscaldare la gomma eva in modo da poterli dare una forma. Quindi sui petali vado a metterli all'interno della piastra e poi su un'estremità vado a piegare in questo modo e l'altra estremità vado leggermente a ondulare la gomma eva. Faccio la stessa cosa per tutti i petali rossi. Per i petali verdi invece vado sempre a riscaldarli e poi vado a fare questo movimento qui con le mani in modo da ondulare la foglia in questo modo qui. Per la stella vado semplicemente a scaldare le punte e a ondulare leggermente le punte come vedete nelle immagini. Prendo la colla vinilica e vado a metterla sul contorno della stella poi vado a versargli dei glitter rossi sopra. Ovviamente i glitter che non si sono incollati li vado a recuperare. E faccio asciugare. Faccio la stessa cosa per tutti i petali e anche per i petali verdi che però vado a mettere i brillantini verdi. Una volta asciugato tutto vado a comporre la mia stella di Natale. Quindi metto della colla a caldo sul retro dei petali e vado ad attaccarli tra una punta e l'altra della stella. All'interno metto un goccio di colla a caldo e vado ad incollare questa pallina glitterata al centro del fiore. Ora vado ad incollare le tre foglie quindi ne metto due vicino una con l'altra sul retro del mio fiore e l'altra dall'altra parte. Ed ecco qui la mia stella di Natale pronta. Ora vi lascio a questi semplici passaggi di origami dove andrò ad incollare la stella. Questo in realtà è un fermapagine che però io vado ad utilizzare sopra il mio televisore. Sono dei passaggi davvero semplici quindi non vi sto a spiegare nulla. Sarebbe molto più complicato spiegare e invece è molto più facile semplicemente vedere il video come sono stati realizzati. Be the shortest one, you'll be sure to know. Ovviamente anche di questi ne ho fatti due. E ora vado ad incollare le mie stelle di Natale sopra il fermapagina. Che non andrò a metterlo sul libro ma negli angoli del mio televisore in modo da abbellirlo per il Natale. E il tutorial è finito e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Grazie a tutti.